e rientriamo in studio con questa musica energica e allegra e stavamo parlando con le nostre amiche gabriella e irene gabriella e rene si sono praticamente ritrovate perché questa è un'altra cosa bella che sta succedendo nel comitato donne per taranto un comitato possiamo dire neonato che però già ha fatto come dire possiamo dire che ha mostrato i denti nonostante sia neonato comincia a mostrare i canini e dai parliamo di questo comitato donne per taranto perché già già vi siete avete fatto la differenza vi siete fatte conoscere allora il nostro comitato donne per taranto ci tengo moltissimo a dirlo nasce per la volontà della nostra amica rosella balestra che ciao rosella che salutiamo ciao vedi che fra poco diamo anche il numero della radio quindi se vuoi intervenire in diretta fai pure allora tramite ecco dal nasce dalla volontà di rosella balestra il qua la quale aveva cercava donne toste e cazzute e incazzate per poter far fronte alla situazione ambientale di taranto e così man mano noi abbiamo dato la nostra adesione è nato il comitato donne per taranto e abbiamo una pagina su facebook che si chiama appunto donne per taranto diciamo il gruppo allargato il quale ha superato oltre le mille adesioni le mille iscrizioni e dove si possono linkare cose relativamente all'ambiente ma non solo e noi come comitato donne per taranto ci siamo appunto costituite per tutelare il diritto alla salute e a una vita dignitosa che sono dei diritti ormai calpestati sistematicamente a taranto e nasce appunto sulla sulla scia di un'esperienza analoga che è sorta a genova nello specifico a cornigliano dove praticamente è stata chiusa la cocheria dell'ilba perché si era notato che la grande industria portava soltanto inquinamento e malattie di questo parleremo in seguito quindi noi come comitato puntiamo soprattutto sull'azione sulla denuncia e sull'informazione quindi cerchiamo appunto di informare quella che è la situazione a taranto che tipo di problematiche ci sono quali sono le sostanze inquinanti i problemi che ne derivano abbiamo fatto tante cose noi siamo nati praticamente a novembre abbiamo fatto tantissime cose belle ci divertiamo anche quando ci incontriamo e diciamo il gruppo di coordinamento è costituito da un 13 14 donne e il comitato abbiamo scelto di essere comitato perché a differenza dell'associazione il comitato non è una struttura gerarchica e questa è anche molto importante abbiamo fatto tante iniziative la raccolta firme per il decreto 155 di cui ci parlerà fra un po' Irene perché ha preparato del materiale specifico e poi siamo state anche a Roma per presentare la situazione di taranto e quindi uscire fuori dai confini tarantini perché se no noi ce la cantiamo noi ce la suoniamo invece così siamo andati a Roma e abbiamo parlato anche perché purtroppo si tende a non parlarne molto fuori dai confini tarantini e quindi questo è importante spalancare le porte e parlare insomma della nostra situazione che è molto grave e siamo state a Roma siamo state ospitate nell'ambito della giornata mondiale del creato lì abbiamo presentato un nostro un nostro powerpoint dove si illustrava la situazione di taranto poi ecco raccolta firme per il decreto 155 Roma adesso abbiamo scritto una lettera indirizzata alle amministrazioni locali per chiedere le mappe epidemiologiche e abbiamo fatto anche un'assemblea aperta non solo al gruppo di coordinamento ma aperto agli iscritti del gruppo e siamo stati ospitate gentilmente dal cantiere maggese e lì insomma abbiamo conosciuto altre donne che si sono aggregate a noi e devo dire che comunque come è commentato per donne siamo anche molto molto coccolate dagli uomini e ci sostengono e vorrei vedere dagli uomini che capiscono dagli uomini che capiscono noi comunque il nostro obiettivo è anche quello di lavorare in sinergia con tutte le altre associazioni di taranto ambientaliste quindi altavarea peslink il fondo antidiossina io non vorrei interromperti perché tu sei contagiosa a parte si sente proprio si percepisce l'energia e l'entusiasmo io veramente non volevo interromperti perché tu però stai mettendo tanta carne a cuocere io vorrei comunque entrare nello specifico io ho assistito a una vostra iniziativa che avete fatto in piazza sicilia dove c'erano i palloncini colorati dove c'erano dei 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 lavori dove c'erano dei disegni dove c'erano delle foto dove c'erano dei tazebao in modo che chiunque potesse avvicinarsi e leggere senza chiedere niente a nessuno per informarsi sai proprio per capire per entrare dentro il problema però ragazze mamma mia siete andati a roma e raccontateci almeno in breve come come vi siete organizzate quante eravate come vi siete spostate sì sì siamo state a roma per come diceva gabriella per la giornata dedicata al creato ed è stata un'esperienza bellissima veramente perché abbiamo visto le persone comunque fuori da taranto la cosa pazzesca è che fuori da taranto molte persone sono completamente all'oscuro di questa vicenda e quindi vedere i loro occhi la loro espressione quando spiegavamo un po la nostra situazione sorpresa sì sorpresa incredula davvero incredula perché poi lì siamo stati ospitati da alfonso paganini che il primo ballerino della scala di roma ci ha ospitato nel suo teatro abbiamo potuto presentare un powerpoint a però si spiegava alfonso paganini il fratello di raffaele paganini esatto una famiglia di ballerini straordinari sì sì vi ha ospitato vi ha dato perché lui si è sensibile al problema ci ha ospitato nel suo teatro e c'è stata anche molta gente che è assistito alla presentazione di questo powerpoint al dibattito che ne ha seguito e il giorno dopo abbiamo fatto la raccolta firme ed è stata un'esperienza veramente molto toccante e io spero che la ripeteremo insomma e beh certo andiamo verso la bella stagione quindi adesso è si comincia a uscire ci sono tante cose che bollano in pentola c'è io so che voi state già lavorando e state lavorando per una un evento importantissimo so che il vostro appuntamento prossimo è il 13 di febbraio sì in piazza della vittoria sì il 13 febbraio in piazza della vittoria faremo la raccolta firme per avere le mappe epidemiologiche finalmente a taranto e che sono essenziali le mappe epidemiologiche servono ad avere una mappatura delle varie malattie che sono dovuti all'inquinamento non soltanto i tumori no che sono insomma le malattie più gravi diciamo ma tutte le altre malattie che dipendono dai fattori inquinanti per cui la mappatura serve a fare appunto un elenco di queste malattie con col corrispettivo elemento inquinante che può procurarle per zona abitativa in modo che si possa capire siccome non si dice mai sì stiamo ancora alla ricerca di un colpevole sì esatto infatti e questo è il modo per avere senza ombra di dubbio il colpevole diciamo che stiamo prendendo coscienza che sulla città di taranto il suo capoluogo c'è un carico chimico globale insostenibile stiamo prendendo coscienza che i contaminanti non sono uno due tre ma sono svariate decine tutte terribili sappiamo e stiamo prendendo col confidenza io avrei bene avrei benissimo fatto a meno ma stiamo prendendo confidenza con parole o definizioni tipo e correggimi gabriella mcs sensibilità chimica multipla cioè c'è un moltiplicarsi di patologie che hanno a che vedere appunto con il sistema immunitario stiamo facendo esperienze che delle quali avremmo benissimo fatto a meno ma che comunque dobbiamo conoscere perché se non conosciamo non possiamo decidere esattamente come liberarci da questo problema esattamente e infatti il nostro il nostro obiettivo è proprio oltre che ad avere finalmente queste mappe epidemiologiche che sono essenziali anche a sensibilizzare davvero i tarantini perché si rendano conto che comunque la salute è la cosa più importante più importante di tutte più importante del lavoro più importante di qualsiasi cosa perché se non c'è la salute se non c'è vita mamma mia mi viene da fare una battuta la catalano cioè nel senso che senza lavoro si può anche vivere ma senza salute dove vai cosa fai esattamente esattamente infatti e io volevo dare un pochino vabbè non proprio dati ma semplicemente dire no giusto per esempio i fattori inquinanti più famosi diciamo così che sono venuti alla ribalta ecco ricordiamoli ecco per esempio il benzopirene per cui abbiamo raccorto le firme fino a poco tempo fa e continueremo penso per cui c'è stato l'igreto 155 che ha rimandato al 2012 la si l'adeguamento l'adeguamento alle norme europee allora il benzopirene oltre a dare il tumore al polmoni alla vescica da anche nell'esposizione prenatale danneggia il sistema nervoso per cui vuol dire che questo fattore è nocivo non soltanto per gli esseri viventi ma anche per gli esseri che stanno per nascere o che arriveranno fra 15 20 anni attenzione esatto esatto perché poi questa sostanza si accumula per cui entra nel sistema genetico si chiama proprio così si chiama bioaccumulazione stiamo facendo esperienza anche di questo sì e purtroppo sì questi per esempio sono concetti che da me erano lontanissimi ma da tutti rene da tutti è solo che ci siamo resi conto che la situazione è insostenibile e da qualche parte è bene è bene rendersene conto ed è bene anche rendersi conto dell'importanza poi della cosa perché questi non sono dati che vengono solo letti no queste sono esperienze che facciamo nella nostra vita e nelle a taranto non c'è forse non c'è neanche una famiglia dove non c'è un malato di tumore dove non si è perso un proprio caro no o dove non ma senza andare cioè questi sono i casi più gravi no i casi di tumore di mortalità ma ci sono tante malattie debilitanti che sono dovute ai fattori inquinanti per cui per esempio si è anche dimostrato che l'inquinamento influisce sull'intelligenza dei bambini e ne parlavamo con Gabriella prima sì 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 che praticamente ci sono dei ragazzi che perdono dei punti in apprendimento intellettivo proprio per la presenza di metalli pesanti nell'aria esatto infatti quindi siamo condannati non solo ad avere una vita più breve ma anche a fare una vita che comunque non ha lo stesso livello insomma qui ci dibattiamo ci dibattiamo tra premorienze e disagi ma comunque la qualità della nostra vita è compromessa se non ci attiviamo se non facciamo qualcosa per come dire invertire la rotta esatto ecco ecco vedevo Gabriella che voleva intervenire perché sì 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 voleva intervenire a proposito di quello perché insomma ultimamente in una trasmissione tv avevo sentito che i casi di autismo a Taranto sono in aumento del 50% che significa allora io ho approfondito questa cosa laddove nello specifico gli studi di un professore che si chiama Montinari ha parlato di autismo come encefalopatia cioè di un'intossicazione la metalli pesanti quindi non più la vecchia teoria della mamma frigorifero non esiste più sono i metalli che si sfalsano all'interno del corpo che noi abbiamo noi metalli però aumenta il mercurio aumenta aumentano aumenta il piombo e quindi questa cosa a Taranto purtroppo ora io non sono un medico assolutamente però l'aumento dei casi di autismo c'è i metalli pesanti nell'area Taranto ci sono sicuramente sarà approfondita e indagheranno questa cosa e comunque il protocollo Montinari di questo medico lavora appunto per curare questi bambini lavora sul disintossicazione attraverso una cura che è priva di glutine caseina lui parla anche di danni dati da vaccino cioè tutto ciò che va a sfalsare l'equilibrio dei metalli all'interno del corpo e questa è una cosa molto importante insomma io ho avuto un alunno che è stato curato con questo protocollo Montinari che lavora su questo Gabriella riprendiamo esattamente di qua subito dopo l'interruzione grazie